Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro driver Oggi siamo di nuovo su Rainbow Six con la nostra Rose Diamond Come al solito è un appuntamento fisso del nostro canale Credo sia arrivato il momento di spaccare i culi Nel senso che siamo bloccati nel nostro gold, nella nostra classifica oro Da troppo tempo e non ne posso più Cioè realmente è una situazione bruttissima perché meritiamo veramente una posizione molto 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 più alta rispetto a quella che abbiamo Ed è tempo che questa posizione cambi Per cui cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo vincere le partite che ci capitano E ci impegneremo 10 volte di più rispetto a quello che abbiamo fatto finora Per cui ragazzi non perdiamo altro tempo e andiamo alla nostra partita Là ragazzi ci siamo Con me ci sono Andrea che non ha bisogno di presentazioni Saluta intanto fai il capo almeno E c'è e c'è e c'è una new entry che in realtà avete già conosciuto Ma la sua vita da irinita purtroppo la portano a non esserci nei miei video Ed è Frank Bella a tutti ragazzi Bella No, fa vj me lo puoi anche evitare per favore Nel senso Pronti, pronti, carichi Dai, ieri sera abbiamo fatto tutti i miei risultati ragazzi Quindi abbiamo aperto a spaccare anche stamattina Non è vero, abbiamo spaccato Spiazziamo le nostre trappole dello Jäger Come al solito, stesse posizioni, più o meno Telecamera 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 Ok, ce l'abbiamo fatta Ma chi è che sta facendo la difesa attiva? Tu Andre? O no? No Nessuno Il medico in infesa attiva Ma dai, è serio Aia Twitch Twitch Dalla Qua Qua Dal Come si chiama Dal cantiere Via dal tunnel Occhio Carica 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 Eccoli Non ho sfondato Occhio se esci Frank Cazzo Cazzo non ho sfondato Merda da sopra Il pavimento della cucina ragazzi Carica Carica del termine qua Medizione Cazzo La fast posta ti sto guardando io da qua Sto dal buco Eh Sì Io sto guardando la botola Non ti alzare Deee Lo sapevo Lo sapevo Io Ma è l'edizione Eh una volta Ragazzi che conoscevano la mia posizione Cercavano me Grande Thatcher mi ha preso dalla botola Hai visto? Bravo Bravo Merda Sì Vabbè Ash Ci sta C'hai nel Nel tunnel Ash Ash nel tunnel Tunnel Sì E l'altra A sinistra Occhio Eh lo so Di sinistra Di sinistra Di sinistra Io sto prendendo l'altra tutta la vita Bene bene Vai vai Di sinistra grande Su 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 Il primo round è vinto Dai Perfetto Grande grande Aspettatore non puoi Ottimo Abbiamo trovato almeno due persone che bene o male i ruoli buoni li prendono Già mi basta il toucher Il fuse è poco meno Però toucher almeno Come on come on Dai Allora Tre camere Prima di tutto Qui sono Una qua E l'altra Qua Ok ragazzi Io direi Io direi Botola E finestra Più un muro ovviamente Che vedete Aspetta un attimo però Prima bisogna guardare se c'è qualcuno qua dentro Prima che c'è qualcuno qua Beh Pensate voi Faccio saltare la botola È vuoto È vuoto L'altro edificio è vuoto Piazza solo la carica Non farà saltare Posso? Aspetta Adesso sì Uno è vicino al bagno E uno dietro la bomba Non so qua l'ho visto No Nell'altra stanza Nell'altra stanza Scusatemi Nell'altra stanza No Bagno Bagno Jager è nel bagno Nella doccia Vai Seguilo Fai tattica blitz Blitz dietro a copertura Vai Uno è nella doccia Non potete sbagliare Doccia No zio Proprio dentro Il mura azzurro Della doccia Esatto Lì Aspetta Eccolo Ce l'hai No vabbè Cazzo Mi ha ucciso Le rei Di mercissima Non ci credo Sinistra Vabbè Tranquillo Tranquillo Mi ha marciato Quel marron Sì vabbè Ma se quelli due Stanno fermi Siamo in tre A fare irruzione Cioè Domanda me la porrei Sai che ti faccio il giro Ma c'è già il doc Lì a fare il giro Sì c'è già il doc In fesa attiva Vabbè Ho dovuto aiutare io A uccidere il drone A distruggere il drone Del twitch Stava morendo Col drone del twitch Prova ad incrociare Dalle scale Verso fuori Dove erano sfondate Oh 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 Dietro Nelle scale Finestra Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia però buono il tentativo mamma mia dai cazzo però su siamo perdere con sta gente andiamo un attimino di riprenderci ragazzi mamma mia siamo in tre da una merda occhio perché è tosta entrare qua di prepotenza guarda questo idiota del toucher mamma mia ti seguo oh la kill mamma mia cosa gli ho preso mamma mia scusami non sono riuscito a salvarti ma oh veramente telecamerina bella dai 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 sono in due qua è libero il tunnel per ora jammer ok nella stanza di b perché lo sento e infatti è lì no no c'è il jammer manedizione provo a entrare fare un'entrata alternativa altrimenti qua se mi aspetti facciamo eruzione combinata io entro dal tunnel abbiamo un minuto e mezzo e in fondo alla stanza merda hai però l'ho preso cavolo l'ho ferito anche cioè se ci muore il toucher dai grande bravi bravi questa mi è piaciuta questa mi è piaciuta vai tu a rinforzare sopra andrea si si me lo stavo per prendere dietro il camion bianco che c'era spawn aggiornatemi sulla situazione di b vale perché stanno entrando da sopra anche cazzarola ma era uno mi ha ferito mi ha lasciato metà vita la bomba è da me stanno rivenendo tutti da me ok aaaah mi hanno bersagliato mi hanno bersagliato ecco è dentro lo stanzino comunque sicuramente uscirà a fare il giro cavolo fuse salabiliardo direi che il fuse è sopra mi ha visto con la telecamera eh dove c'è il bar eh sono così coglione che rimango lì secondo te aspetta ce n'è uno alla finestra non muoverti ecco eh l'ho visto ah gliel'ho piazzata lì la trappola fuori fuori dove sono le scale entrando dalla finestra entrando dalla finestra grande buona 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 dai così buona così dai bravi siamo sì bene su allora qua non ho ribaricato quindi ci sarà sicuramente di nuovo qualcuno e se pusciamo dall'andito delle scale che ne dita ok pusciamo dall'andito Frank va bene va bene no cazzo c'è uno dietro preso 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 minca l'ho vista quella coda dell'occhio l'ho vista mamma mia tranquillo c'è Ash che ti copre aspetta guarda subito lo stanzio in fondo eh ce n'è uno ok puscia un po' che ti sto dietro leggermente di legno stia eccolo 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 ciao bello la destra è chiusa te la sto coprendo vai fermo 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 muro dietro muro dietro preso mamma mia che kill che gli ho fatto dietro ne hai uno oh no mi è passato davanti grande papa white veramente grande mi è passata davanti non ho fatto in tempo a spararlo ce l'abbiamo fatta veramente questo è stato il top questo è stato il top questa ci è piaciuta e dovremmo anche salire e si va in goal 2 ragazzi ce l'abbiamo fatta ok ragazzi ce l'abbiamo fatta siamo riusciti a vincere a questa partita che si era messa anche male dall'inizio cioè sembrava un attimino complicata perché comunque si vedeva che erano bravi gli avversari ma siamo riusciti a portarci una vittoria veramente veramente importante a casa abbiamo fatto anche un buon risultato di squadra buoni movimenti tattici anche un buon punteggio individuale se devo dire la verità però non è il punteggio individuale che conta l'importante è fare il lavoro di squadra fare dei movimenti ottimi giusti e portarci a casa appunto i round detto questo ragazzi lasciate un bel like sotto al video che fa solo piacere commentate qui sotto ovviamente facetemi sapere cosa ne pensate di questa partita se vi è piaciuta se abbiamo sbagliato qualcosa se voi avreste fatto dei movimenti diversi per portarvi a casa i round sia ad attacco che di difesa ma soprattutto non dimenticatevi la pagina facebook che vi linkerò sempre qui sotto anche lì stiamo raggiungendo un bel numero di like mi state continuando a seguire anche lì quindi veramente vi ringrazio e per il resto a nulla ragazzi io direi di lasciarci al prossimo video con la road to diamond sperando di riuscire a portarci addirittura in gold 3 quindi vedremo un po' cosa riusciremo a fare al prossimo video ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.